ciao a tutti piccolo video sguata la spesa un cop perdonatemi se mi vedete un po sbattuta ma ho lavorato e è il mio primo giorno di ciclo quindi sono sbattuta un po abbastanza diciamo comunque abbiamo speso 43 euro e 11 centesimi per la precisione abbiamo preso questo tonno che abbiamo preso l'altra volta in offerta questa volta non era in offerta però ci è piaciuto parecchio anche perché è sott'olio ma non si sgocciola praticamente già sgocciolato quindi è una figata poi ho quasi finito sia l'avena che la crusca ho preso questi qui fiocchi di avena integrali biologici e la crusca ho preso la crusca di avena sempre nella stessa marca zarchio poi ho preso panini da out dog la crema alla nocciola valsoia un pacco di fiber pasta poi confezione da due pizze della napoli viustel poi ho preso gli yogurt l'altra volta ho provato questi qui al pistacchio della miller che ho messo dentro al porridge e è venuto molto buono quindi ho ripreso questi e poi ho visto questi qui al gusto bacio non potevo non prenderlo e poi ho preso anche un nome che c'era e alla nocciola poi ho preso anche un fai e so che si pronuncia fai e questo yogurt senza grassi e pochissimi zuccheri e tante proteine ne ho preso solo uno giusto perché se poi non mi piace è un peccato poi pomodorini altri due pacchetti di patate infine abbiamo preso le bibite come sempre quindi estate zero alla pesca ne abbiamo prese due allora di estate zero alla pesca la maggior parte delle volte ne prendiamo meno perché è quello che bevo io e ne bevo meno rispetto a Marco infatti estate zero al limone quello che beve Marco ne abbiamo prese tre e la Fanta zero una che è quella che beve Francesco e basta questo è tutto grazie mille di aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao ciao